La Regione Campania aveva il dovere di fare il decreto nell'anno perché sennò il Ministero ha poteri sostitutivi e l'ha fatto nell'anno, poi giustamente l'ha sospeso perché operare una procedura che è sotto, come dire, subiudice dalla Corte Costituzionale che inizierà il giudizio l'8 aprile, quindi poi non so, l'8 aprile inizia la discussione, non era una cosa corretta, essendo i due enti completamente in autonomia finanziaria, soliti finanziariamente, sottodimensionati con il personale, quindi non hanno problemi né di sovravivenza né di costi. Lo scenario è cambiato perché non facciamo finta di nasconderci dietro un dito, le province non si sono fuse, non si sono fuse le prefetture, diciamo che c'è stato un aborto della Del Rio e vedremo se la Corte Costituzionale dichiarà addirittura incostituzionale la Madia. Questo ovviamente ci dà la serenità di aspettare la riflessione della Corte Costituzionale e di verificare lo scenario che ne verrà, perché questo non vale solo per la fusione, ma vale anche per le funzioni e l'attribuzione dell'ente, sia il Pino-Sannita o separato-Sannita e il Pino. Comunque la Camera ha avuto un cambio anche di mission, è stata deturpata della mission, ha vissuto in un limbo amministrativo, economico, giuridico e credo che questa sentenza faccia chiarezza, anche perché sono abbastanza sereno, perché la Corte già si è espressa per le regioni autonome e si è espressa nel senso della incostituzionalità della procedura. Grazie 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 Grazie.